Sono riconducibili a Piero Lazzaro Cavallo, 56 anni, già condannato per reati di partecipazione ad associazione camorristica, i beni del valore di 2 milioni di euro confiscati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. Secondo le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno, l'uomo già condannato per reati di partecipazione ad associazione camorristica e ritenuto vicino al clan camorristico Pecoraro Renna, avrebbe gestito attività illecite, in particolare bische clandestine e il mercato dei videopoker, reinvestendo successivamente i profitti in attività economiche. La confisca dei beni riguarda un bar di Battipaglia, un immobile destinato a garage e magazzino, una società di materiali plastico nel comune di Bellizzi e un'auto di grossa cilindrata. Il provvedimento di prevenzione messo dalla Corte d'Appello di Salerno prevede anche la sorveglianza speciale per Piero Lazzaro Cavallo, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni.